Grazie a tutti e grazie la nuova e la nuova la nuova alla nuova alla alla quale ci stiamo preparando con la benedenza e con l'opera di varietà e dal rischio alla polizia Gesù è il Giorgio Renne per dare l'evento all'istere della sua morte e risoluzione accompagniamo con mesi di ossioni il nostro sapratore e il suo ingresso nella città santa e segniamo la grazia di seguirlo qui nella voce per essere partecipi della sua risoluzione veniamo Dio ripodente ed eterno benedissimi questi dammi di unito di Tua e congegna e accompagniamo il nostro re di giugno e coniugno all'aggiuntamento del cielo e il mio regno nei secoli e secoli di unito di Tua e coniugno 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 in quel tempo in quel tempo Gesù camminava avanti a tutti salendo verso Gerusalemme e coniugno 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 legavano il puleto, i proprietari dissero loro, perché è legato il puleto? Essi esposero, il Signore mi ha bisogno. Lo condussero allora da Gesù e gettati i loro mantelli sul puleto mi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla trascesa del monte dei giudici, quando tutta la volta dei discerti, pieni di gioia, cominciato a dare più a gran voce da tutti i giudici che avevano le culto di certo, benedetto cui mi viene, cito te, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Alcuni parisei tra la volta gli dissero, maestro, improparo di quei discerti, a egli dissero. Io vi dico che se questi tangeranno, crederanno le pietre. Parola del Signore. Parola del Signore. Parola del Signore. che ha amato al Signore Gesù, re del Signore, e abbiamo finito in pazzo. Amén. Amén.